Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Questa è una lezione molto interessante perché vedremo come si stabilizza un'immagine, vale a dire vedremo come dopo aver fatto una ripresa per strada con il vostro cellulare mentre stavate passeggiando sia possibile rendere il vostro video un pochettino più fluido. Ne parleremo tra poco, prima però vi ricordo che potete venirmi a trovare sul sito www.fabioambrosi.it dove troverete tutti gli articoli di questo corso di editing video con Adobe Premiere guardate anche le lezioni precedenti perché noi siamo partiti praticamente dall'ABC quindi da cos'è un fotogramma, da cos'è un video, dai fotogrammi per secondo eccetera eccetera abbiamo visto come si crea una sequenza, abbiamo visto come si importa il materiale e siamo arrivati a parlare degli effetti video quindi recuperate i video precedenti, iscrivetevi a questo canale YouTube se vi fa piacere, avete voglia, mettete un like, commentate per domande e quant'altro basta, promozione fatta, andiamo avanti questa è l'ultima lezione che dedicheremo agli effetti video o meglio è l'ultima lezione in cui approfondiremo alcune tecniche per applicare effetti in Premiere per creare cose particolari e interessanti vi invito ad approfondire l'argomento effetti video perché anche se noi oggi ci fermiamo qui chiaramente l'argomento è molto più complesso, gli effetti in Premiere sono tanti e dovete sostanzialmente giocare con tutti gli effetti disponibili e creare i vostri sostanzialmente l'unico limite è la vostra fantasia quindi sperimentate e vi ricordo chiaramente che per realizzare gli effetti speciali per la motion graphics, per il composing dovete utilizzare altri software Premiere resta comunque un software di montaggio video non dimenticatelo mai sì, è possibile aggiungere effetti, è possibile aggiungere titoli tra poco lo vedremo ma resta comunque un software di montaggio utilizzate After Effects, Photoshop, Illustrator per tutto ciò che non riguarda il montaggio video ok? questa è una raccomandazione perché spesso si pensa che con Premiere si possa fare tutto sì, si può fare molto ma ogni software chiaramente ha il suo scopo quindi per ogni azione bisogna utilizzare il software opportuno cosa vedremo quest'oggi? come detto vedremo come stabilizzare un'immagine mossa quando camminate per strada e prendete il vostro cellulare e iniziate a fare delle riprese camminando inevitabilmente avrete un risultato simile a questo sono andato in giro per Roma ho visto un gabbiano stava facendo i fatti suoi l'ho seguito per quanto io cercassi di rimanere con il cellulare fermo chiaramente si vedono i miei passi si vede che io stavo camminando per strada quindi questa immagine, questo video non è proprio fluido per poter fare un video fluido mentre si sta girando con la videocamera o con il cellulare bisogna adoperare almeno un gimbal o comunque un'attrezzatura con delle sospensioni che vi permetta di tenere la camera perfettamente immobile mentre camminate ecco in ambito molto professionale al cinema o anche in televisione si utilizzano le stedicam ma le stedicam sono strumenti estremamente costosi difficili da adoperare anche molto stancanti per chi le adopera e sicuramente non alla portata di tutti quindi molto probabilmente utilizzerete un gimbal e io vi invito quando girate i vostri video a non pensare che poi in post produzione si possa correggere e rendere tutto fluido perché a volte non è così ma se proprio il vostro operatore di fiducia o voi stessi avete girato un video come ho fatto io al volo con il cellulare senza pensare troppo a fare le cose per bene ecco sappiate che in Premiere questo video così mosso può trasformarsi in qualcosa di meno mosso tipo questo questo è lo stesso identico video di prima con applicato l'effetto stabilizzatore alterazione di Adobe Premiere e come vedete il risultato è abbastanza accettabile sì ok non è perfetto per carità però non è più mosso come prima non stavo adoperando una gimbal non stavo adoperando una stedicam ovviamente e i miei passi sono quasi completamente spariti ecco il video originale era questo per intenderci ecco questo per farvi capire cosa stiamo facendo stiamo stabilizzando un'immagine questa è l'immagine originale quindi con i passi miei visibilissimi e il video successivo è questo più stabile un pochettino più fluido i miei passi quasi non si vedono l'immagine in altre parole è stabilizzata come si fa a fare questo? è molto semplice proviamo a prendere la prima clip questa che non è stabilizzata e proviamo a cercare tra gli effetti video l'effetto stabilizzatore alterazione lo trovate nella categoria distorsione categoria distorsione effetto stabilizzatore alterazione lo prendiamo lo trasciniamo sopra la nostra clip guardate il monitor programma ecco qua compare una scritta un avvertimento analisi in background passaggio 1 di 2 cosa vuol dire? vuol dire intanto che deve fare due operazioni Premiere passaggio 1 di 2 vuol dire proprio questo prima sta facendo un'analisi in background questo vuol dire che voi potete continuare serenamente a lavorare in Premiere mentre il software analizza e se guardate nel pannello controllo effetti alla voce vicino al bottone analizza vedete che c'è indicata sostanzialmente l'avanzamento di questa analisi di questa operazione terminata l'analisi dei fotogrammi Premiere automaticamente tenterà di stabilizzare l'immagine con delle impostazioni di default quindi se vi va bene se ci va bene non dobbiamo fare nient'altro tra qualche istante l'analisi sarà terminata e ecco qua compare una scritta a sfondo giallo e sostanzialmente l'immagine è bella che pronta in questo caso io non ho dovuto fare altro se non applicare l'effetto e Premiere automaticamente ha stabilizzato l'immagine non è sempre così non siamo sempre così fortunati ci sono dei casi in cui bisogna lavorare un pochettino con le impostazioni non le vedremo tutte vi invito se siete curiosi e interessati ad andare sul sito di Adobe e a cercare proprio l'effetto stabilizzatore alterazione perché vengono spiegati bene tutti i parametri quello che però voglio dirvi e voglio farvi vedere è quello che fa Premiere perché chiaramente Premiere non sta utilizzando delle formule magiche o dei riti voodoo per fare questa operazione ma sta utilizzando la matematica e algoritmi di programmazione che permettono di stabilizzare l'immagine questa è la stessa immagine stabilizzata di prima ma in qualche modo vi mostro quello che avviene dietro le quinte ok ho diciamo programmato questo effetto per mantenere i bordi evidenti e guardate come Premiere stabilizza l'immagine Premiere non fa altro che giocare con la scala e con la posizione a volte anche con la rotazione sostanzialmente per mantenere i pixel al loro posto questo è quello che fa Premiere quando stabilizza sostanzialmente cerca di mantenere i pixel fissi al loro posto muovendoli il meno possibile muovendo l'intero fotogramma scalando l'intero fotogramma riposizionando l'intero fotogramma questo è quello che accade quando applicate l'effetto di stabilizzatore alterazione sì il nome è un po' complesso ma sostanzialmente è questo quello che accade e chiaramente le opzioni che avete a vostra disposizione vi permettono di controllare proprio questo algoritmo ovvero il modo con il quale Premiere cerca di rendere l'immagine più fluida non vedremo tutte le opzioni ma una che può esservi sicuramente molto utile è questa chiamata risultato ci sono due opzioni movimento uniforme e nessun movimento quando utilizzare l'una e quando utilizzare l'altra movimento uniforme sostanzialmente è l'opzione di default ed è quella che nel nostro caso è perfetta quando avete la vostra telecamera che si muove passeggia cammina si sposta nel tempo questa è l'opzione migliore da utilizzare e il relativo valore di uniformità ci permette di aumentare ancora questa fluidità e questa stabilità dell'immagine non esagerate perché altrimenti rischiate di vedere delle distorsioni ma se io per esempio il valore uniformità lo portassi a zero non farei altro ecco previa sta rielaborando non farei altro che vedere l'immagine praticamente originale cioè con i miei passi così come era in origine con il valore portato al 50 già iniziamo a vedere l'immagine un pochettino meno mossa così come abbiamo visto diciamo con l'esempio che vi ho mostrato altre l'altro settaggio tra le opzioni dell'effetto stabilizzatore alterazione è il risultato invece che movimento uniforme nessun movimento quando utilizzare questa seconda opzione sostanzialmente quando non avete un cavalletto e dovete riprendere un soggetto stando in piedi ma la vostra mano non è magari ben ferma ma la cosa importante quando utilizzate il risultato nessun movimento significa che voi con la vostra camera non vi muovete state fermi e state inquadrando un soggetto fermo ecco questa seconda opzione serve per rimuovere i movimenti involontari che fate con la mano quando non utilizzate un cavalletto chiaramente questa seconda modalità va a disabilitare la voce uniformità ecco qui ci informa che questo tipo di modalità questo tipo di risultato richiede sostanzialmente delle impostazioni aggiuntive nei parametri che altrimenti Premiere non riesce a gestire correttamente i pixel ecco complicato sì non troppo giocateci perdeteci un pochettino di tempo vediamo un altro esempio subito dopo il gambiare è andato avanti è volato e si è posato sopra ad un castellatore dell'immondizia questa è l'immagine originale sostanzialmente guardate come mi muovo camminando e applicando l'effetto di default ecco cosa accade l'immagine ovviamente è diversa rispetto a quella che abbiamo visto prima è sicuramente molto più stabile ma fate attenzione questo è un caso in cui la stabilizzazione rischia di portare delle deformazioni alla vostra immagine guardate l'albero per esempio guardate l'albero come a un certo punto si deforma avete visto? eccolo qua torniamo in dirlo di qualche fotogramma guardate l'albero come si deforma questo perché Premiere sta manipolando la nostra immagine scalandola ingrandendola ruotandola riposizionandola tutto questo per rendere il movimento della mia macchina il più fluido possibile ma l'effetto collaterale può essere per esempio la distorsione di alcuni contorni o di alcuni elementi dello sfondo eccetera eccetera quindi si è un effetto utile ma state molto attenti quando lo utilizzate chiaramente se utilizzato con altri effetti può essere molto utile io qui mi sono divertito un pochettino a lavorare con altri effetti e a creare qualcosa di tipo surreale un gabbiano magari che vola nel nostro sogno vedete che in questo caso si deforma l'effetto deforma l'albero di sfondo ma il contesto è talmente onirico che quasi la deformazione può esserci d'aiuto paradossalmente non c'è una regola nell'applicare gli effetti l'effetto definitivo deve deciderlo il vostro occhio il vostro cervello la vostra fantasia guardate quello che fate valutate quello che fate e solo voi potete decidere se siete soddisfatti o meno purtroppo non esiste un manuale sul come si fa una cosa piuttosto che un'altra perché ogni situazione è diversa da un'altra io vi ho mostrato alcuni esempi ora sta a voi prendere questi strumenti farli vostri lavorarci guardate le lezioni precedenti sui keyframe per animare gli effetti piuttosto che le lezioni dedicate proprio alle basi degli effetti in Adobe Premiere se non sapete utilizzare gli effetti e giocate 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 perché l'unico modo per imparare mai come in questo caso è giocare 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 provare 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 grazie ancora per avermi seguito commentate se avete domande www.fabbiambrosi.it iscrivetevi a questo canale grazie ancora grazie ancora al prossimo tutorial ciao